Tanta felicità di questi ragazzi, di questi bimbi dopo un anno di isolamento per colpa di questo virus che ha distrutto veramente la socialità, la comunicazione e quindi oggi questa giornata è il simbolo della rinascita e del ricominciare da capo un'attività e un'attività piena di felicità e di bimbi che vogliono fare tante attività. Come è nata l'iniziativa? L'iniziativa è l'iniziativa della cooperativa Santa Chiara che è aderito a questo bando, a questo progetto di fondazione con il Sud e meno male che esiste questa fondazione italiana che ogni giorno stanzia fondi per il contrasto alla povertà educativa minorile che è la nuova piaga della nostra società e quindi aderire e partecipare a questi bandi e investire nel contrasto alla povertà educativa è la sfida, la nuova sfida, è la nuova sfida, certo. Grazie Presidente. A voi, buon lavoro, buon divertimento e che Dio ce la mandi buona a tutti. Ciao. Eccolo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.